ah guarda il bambù qua con latte di cocco questa è dolce ecco qua, ieri abbiamo mangiato questo, il granchio ripieno ah i baccoli, è che non mi fanno assaggiare uno che grandi quelli lì, hai visto che grandi? però quei grandi non li assaggerei, questi invece sono buonissimi non mi ha offerto eh, l'hai visto che grandi che erano quell'altro eh, pollo e dopo mi sparo sicuramente i fegatini, spiedino di fegatini palline, le salsicce sono buonissime, queste sono buonissime ah queste, queste erano boh praticamente abbiamo provato quasi di tutto oggi non so neanche io cosa prendere ah il sushi ho detto, i fegatini, queste palline sono buonissime bambù bene altro giro ah guardate le zampette dai cosa facciamo? che poi non è finita qua, sembra finita abbiamo appena fatto un terzo, neanche no, non lo facciamo tutto i spaghetti gialli vuole la Gabriella qua c'è i dolci, l'avevo già fatto ah guarda che belli gelati qua guarda che bello magna, magna guarda la caroban mezzo chilo di gelato punto, butta su ecco, pronto vediamo quanto che dà il più grande viene 69 eh cari cari 2 euro eh troppo, guarda, guarda vomitevole qua abbiamo granchi con le uova rosa le uova rosa le uova rosa manciamo cosa manciamo? battai qua c'è il battai no, no quello di lato qua non lavora tanto ah ah non lavora che la fila i fegatini io mi prenderei i fegatini dai qua i fegatini sono belli sono belli 20 batti troppi soldi sono 20 spedino 20 o qualsiasi cosa che prendi è 20 20 50 centesimi ah boh ah boh la gabri mi lascia mangiare i fegatini perchè costa 50 centesimi si si sento senta bene buon appetito bene buon appetito buon appetito hanno una salsa sopra dolciata buona buona buonissimo buon ci vediamo dopo andiamo andiamo